Quindi, non può mentire. Per questo lo specchio mostra la verità sulle cose. Ultimamente ho realizzato un disegno e l'ho condiviso su internet. È un autoritratto. Sul mio viso ho scritto, io sono il robot. Il robot sono io. Potete trovarlo online. Oggi l'umanità è arrivata a sviluppare l'intelligenza artificiale. Come lo specchio anche la tecnologia arriva alla verità perché riproduce direttamente la struttura dell'esistente in ogni particolare e nella totalità. I robot che noi costruiamo crescono di fronte a noi e ci rispecchiano. È il tempo di assumerci la responsabilità dei robot che siamo. Grazie. 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 Grazie.